Il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha posto il proprio veto alla legge sui transgender. La norma, approvata dal Parlamento di Lisbona, faciliterebbe il cambio di sesso a partire dai 16 anni senza l'obbligo di un rapporto medico. Il decreto era passato lo scorso 13 aprile grazie ai voti favorevoli, tra gli altri, del Partito Socialista, del blocco di sinistra e dei Verdi. Rebelo de Sousa ha quindi rinviato il provvedimento all'Aula chiedendo che venga modificato, deve essere obbligatorio, un parere medico per i minori, quindi fino ai 18 anni.